Ora stiamo preparando l'impasto per la costruzione degli strumenti di ghiaccio che è fatto con acqua naturale e neve diciamo non l'ultima che è venuta che è quella più ricca di aria ma prendiamo quella un po' più vecchia diciamo stagionata che è quella sotto vedete negli strati sotto che è meno ricca di aria non prendiamo l'ultima neve fresca che è più ricca di aria ma andiamo a prendere quella negli strati sotto che è un po' più compattata e c'è dentro meno aria